Performanti, formarsi per formare. Questo è il titolo del corso organizzato dalla Caritas Diocesana presso la parrocchia San Paolo di Vasto. Si tratta di un percorso formativo che ha come destinatari giovani e adulti che si occupano dell'educazione di preadolescenti e adolescenti. Le lezioni sono tenute da Gianluigi De Palo, 44enne, da sempre impegnato nei campi della comunicazione, formazione e dell'associazionismo familiare. Quest'ultimo sugli obiettivi degli incontri si è espresso così. Far capire a tutte quante le persone che vogliono darsi in pasto, che vogliono dare un aiuto, che c'è una leadership che va coltivata, va seminata, va fatta crescere. Perché ciascuno di noi ha una leadership ma non tutti riescono a viverla in prima persona. Cioè ciascuno di noi ha un ruolo, un genitore, un padre, una madre, un professore, ma pochi la vivono pienamente e pochi si rendono conto che se ci sono o non ci sono cambia tutta la storia. Al centro delle tue battaglie l'assegno unico, la famiglia, la natalità. Più che mie battaglie dovrebbero essere battaglie di tutto il paese, perché purtroppo se crolla la natalità crolla tutto il sistema paese. Crolla il sistema pensionistico, crolla il welfare, crolla la sanità e quindi diventa un problema per tutti. Quello che noi cerchiamo di fare è mettere attorno a un tavolo tutte le forze politiche, tutte le realtà, per fare in modo che si vada in un'unica direzione. Perché adesso ancora c'è tempo per invertire la tendenza, poi non ci sarà più e molto probabilmente chi oggi ha un ruolo strategico, non solo la politica ma anche il mondo delle imprese e delle banche, poi dovrà rendersi conto che lo stavamo dicendo e che andava fatto. Il corso durerà 16 ore, si svolgerà da giugno a fine luglio con massimo 25 partecipanti, così come previsto dalle normative Covid attualmente in essere.